Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video Io sono adesso oggi parlerò di stasera perchè lo so che ho avuto via nel video altra volta ma vorrei parlare bene di stasera perchè stasera verranno insieme a Napoli mi sembra un po' strana mia insieme un pochino di Napoli lei la sostiene quindi a sera a Napoli secondo me è una partita molto tattica molto difficile e molto molto combattuta anzi no molto combattuta no perchè giocherà molto bene l'arsenal ma spero che Napoli almeno regge il bottino e spero che gli venisse no spero che gli venisse il terreno rosso cosa come si chiama dell'arsenal giochi che stai quelle cose la che stai vabbè comunque io vi saluto e ci vediamo stasera dopo al sera a Napoli che dite ovviamente non c'è solo quella di partita c'è anche il benfica e il francoporte ovviamente avevo detto lo giudice di sudane ma oggi sono in Napoli ok io vi saluto ci vediamo stasera o dopo forza Napoli forza Napoli non vogliamo mai anche possiamo affrontare anche le grandi forza Napoli ok ok ci vediamo stasera bella